Salve, siamo qui oggi con padre Daniele Canali, non è giovanissimo, però è l'ultimo dei preti, non nel senso di valore, ma in senso temporale, l'ultimo dei sacerdoti ordinati nella provincia italiana meridionale dei sacerdoti del Sacro Cuore. Siamo qui con lui oggi per fare una chiacchierata e conoscere la sua vita, come è nata la sua vocazione, fino ad arrivare ai giorni nostri, per chiedergli quello di cui si occupa. Allora iniziamo dal chiedergli dove è nato, dove ha vissuto i suoi anni prima di entrare nella congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Bene, innanzitutto salve a voi, sono padre Daniele, come mi hai presentato, e la mia vocazione, ma soprattutto la mia vita, si è svolta, io sono romano, sono un caso raro perché sono un prete romano di origini, un deoniano romano. Si è laziale, non sei un romano vero, giallorosso, da Roma, no, sei laziale. Perché il vero romano è laziale, caro Francesco. Non è vero. Mi dispiace per te. Comunque, al di là di questa dura verità, allora, sono nato a Roma, sono cresciuto, provengo da una parte, cresciuto nella borgata di Centocelle e nella parrocchia di Quarticciolo. Quindi vengo un po' da quartieri. La borgata Centocelle è famosa per un cantante in modo particolare, ma sei vissuto non Centocelle, diciamo, almeno la tua, come dire, la tua formazione religiosa. Sì, nella mia parrocchia di Quarticciolo, dove sono presenti i padri deoniani, lì sin dall'adolescenza ho frequentato, sono cresciuto e ho incontrato anche la bellezza della fede nel Signore. Senti, come mai ti sei ritrovato a Quarticciolo? Cioè, diciamo, lo diciamo per gli ascoltatori, il bacino d'utenza nostro non è romano, magari arrivassimo a Roma, presto o tardi spererei di arrivarci. Quindi non conoscono, i nostri tre spettatori, la realtà romana. Ma Quarticciolo è un quartiere, come dire, abbastanza problematico, no? Tant'è che Centocelle non è che sia migliore del Quarticciolo, ma ho sempre, io ci ho vissuto una decina d'anni al Quarticciolo, quelli del Quarticciolo, per non dire che sono del Quarticciolo, tante volte dicono che sono di Centocelle, quindi si sentono già nobili a dire che sono di Centocelle. Come mai tu di Centocelle ti ritrovi, o da Centocelle ti ritrovi al Quarticciolo? Dopo la terza media, iniziai alle scuole superiori, insieme ai miei compagni di classe provenivano da lì, ci frequentavamo, studiavamo insieme, insomma eravamo un po' la commetiva e ci ritrovavamo anche come amici, e tra di noi c'era qualcuno che frequentava la parrocchia, la parrocchia dell'Ascensione dove sono i padri deoniani, e invitarono un po' tutti noi amici a frequentare, e da lì è iniziata la mia presenza in parrocchia, l'impegno, la mia crescita, quindi già dall'edà di 14 anni, la frequentazione della messa, eccetera. Ma i sacramenti li hai ricevuti? I sacramenti li ho ricevuti perché andavo a scuola, dai fratelli delle scuole cristiane, sulla via Casilina, vicino, e quindi fino alla terza media... Perché il Quarticciolo sta sulla Prenestina, diciamo, quindi... Sì, quindi sempre lì nel... Sono nella zona, diciamo. Nel vicinato. E diciamo, dalla terza media in poi ho cominciato a frequentare la parrocchia, perché prima avevo la catechesi, l'impegno nella scuola. Poi dopo terminate le scuole medie, ho iniziato la scuola statale, quindi ho cominciato ad entrare nella vita della parrocchia. Ed è stato un mondo che mi ha sempre coinvolto, nel quale mi sono tra l'altro coinvolto, e soprattutto nell'impegno dell'oratorio, nella catechesi, tra l'altro anche nei gruppi giovanili, ed è stata sempre un'esperienza coinvolgente, impegnativa, ma soprattutto dove ho imparato anche la bellezza del donarmi, del donarmi con gratuità. E lì ho incontrato anche la vocazione. Io vedevo, ricordo anche con il giovane di allora, anzi il giovanissimo, no? Rimanevo entusiasta nel vedere l'impegno con il quale i padri deoniani, in questa borgata difficile, dove bisognava veramente andare ad aiutare l'uomo nel suo degrado, a far cogliere quella bellezza che emerge anche dall'annuncio del Vangelo. Ecco, a me quello che mi colpiva era la passione con la quale i padri annunciavano questo Vangelo, il Vangelo di Gesù, che dava una speranza a una persona che vive in periferia. Provate a scriverlo il quartiere, perché appunto, diciamo, è difficile per chi non conosce l'ambiente capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un quartiere che sostanzialmente ruota attorno a delle case popolari, dove c'è molta malavita, ma ci sono anche situazioni di povertà, diciamo non solo economica, anche a livello culturale. Quando parliamo di cultura non è soltanto la scuola. A livello nozionistico. Nozionistico, cioè la cultura di base, la cultura umana, situazioni di solitudine, vecchiette, vecchietti, che si trovano in situazioni dove addirittura tante volte non riescono manco a uscire di casa perché appena esci te la occupano casa, insomma. Ultimamente c'è stato un film anche che parlava di queste tematiche su cui si ride, ma in realtà sono tematiche drammatiche. che è capitato negli anni in cui sono stato al quarticciolo, che magari col morto in chiesa durante il funerale qualcuno andava a scassinargli casa per occupargli casa. Quindi stiamo parlando di un quartiere che è fatto di questa gente qua. Molti abitanti di quella zona abitano anche il carcere di Rebibbia, per non dire di Regina Celi, e quindi diciamo una situazione anche droga, eccetera. Quindi è una situazione complessa, è una situazione complicata, nella quale i pari si sono trovati ad operare negli anni. C'è buona gente, per carità, come sempre, ci sta sempre il male, c'è anche il bene. Quindi ci sono dei casi al contrario incommiabili, però di fatto è un quartiere complicato da questo punto di vista, diciamo. Non so se l'ho descritto, forse mi spareranno quelle di queste. No, no, ma questa purtroppo è la realtà di tutte le borgate di Roma. Questa non è la realtà soltanto di un quartiere, ma la realtà di diversi quartieri a Roma, che sono accomunati proprio da questa situazione. Tra l'altro è proprio questo andare nelle periferie. Oggi Papa Francesco ci ha insegnato a chiamare questo stare accanto ai poveri, a queste situazioni di solitudine, di abbandono, di stare al margine della legalità come le periferie, e tornare lì ad annunciare il Vangelo. Mi colpiva che il prossimo tema del capitolo generale della nostra congregazione dei padri deuniani sarà misericordioso in comunità con i poveri. Io l'ho visto e vissuto da giovane, guardandolo nei padri deuniani, stando proprio qui, in queste periferie, come penso tanti altri religiosi, penso a tante situazioni di congregazioni che stanno in altre borgate di Roma, con la stessa realtà, e sono chiamati proprio ad annunciare quel Vangelo della misericordia, quel Vangelo proprio dell'amore che sgorga dal cuore di Cristo. Di cui parla il Papa, ma proprio il Papa, diciamo, la novità non è il fatto di dire andate alle periferie, no? Perché noi alle periferie ci eravamo, o ci siamo andati. Poi, una delle caratteristiche, no, ma non è solo quello, questa era una delle caratteristiche dei padri deuniani, andate dagli ultimi, prendete le cose che sono proprio più maridotte, cercate di portarle al meglio, non so se ci riusciamo, ma forse... uscire dalle sagrestie è il motto del nostro padre fondatore. Questo sì, ma la novità è che bisogna guardare la realtà a partire dalla periferia, cioè il discorso è diverso, non è che parto dal centro, e ora vado alla periferia, insegno alla periferia, ma partire dalla periferia riguardo il centro, cioè è cambiare la prospettiva, che è un problema grosso. E infatti lui, proprio spiegando cosa intendesse con l'andare alle periferie, è vero questa cosa che tu dici, che è quello di rivedere la realtà con lo sguardo dalla periferia. E io come giovane sono cresciuto in queste periferie, dove ho incontrato la mia vocazione, dove ho sentito la chiamata del Signore in questo contesto... Poi mi dici dove ti ha chiamato, perché su quale mezzo... Certo, certo. Sicuramente te lo racconterò. Perché è un problema capire, se è la televisione, se è la radio, se è il cellulare, non c'era, se è il telefono, non lo so. Con il linguaggio dei mezzi di comunicazione, sicuramente dobbiamo insegnare ai giovani a sintonizzarsi sulle frequenze del Signore. Perché molte volte il Signore chiama, parla, ma il problema è che noi siamo sintonizzati su alte frequenze, per le quali cerchiamo altra musica, altre richieste, altre trasmissioni. Ma lo spieghi dove l'hai sentita. Ma prima di arrivare a questa, perché io, diciamo, ti ho conosciuto in parrocchia, siamo stati un po' insieme, abbiamo vissuto dei momenti belli, anche un po' meno belli, sicuramente. Ma io ti ho conosciuto, che eri un catechista, un pilastro della catechesi parrocchiale. Però ti ho conosciuto, che eri all'interno di un cammino particolare di fede, cioè il cammino neocatecumenale. Come ti sei trovato dentro il cammino neocatecumenale? Qual è stata l'esperienza del cammino? Sì, verso i 17 anni, c'era una famiglia della parrocchia, tra l'altro era il figlio, uno dei figli era un mio carissimo amico, col quale siamo cresciuti insieme. Noi frequentavamo un po' anche il casaloro, tra l'altro questa famiglia la conosci bene anche tu. E a me colpiva moltissimo, quando andavamo a casaloro, questi parlavano di Gesù Cristo, a casa mia, perché i miei genitori non frequentavano la parrocchia, la chiesa, gente molto buona, operai, però erano lontani dalla chiesa. Mi colpiva questo parlare del Signore, ma un parlare con gioia, con sincerità, con fede, e poi vedere questa apertura, questa accoglienza, questa casa sempre aperta, questa famiglia che accoglieva. E io ho capito lì la bellezza di una famiglia cristiana, proprio da questa accoglienza. Ed è stato un po' quel mezzo di recettività, attraverso il quale io mi sono posto la domanda, ma cosa c'è dietro questa accoglienza, questa gioia, questa serenità che traspirava dal rapporto con questa famiglia. E loro mi parlavano della loro esperienza in questo cammino, e cominciai a 17 anni, anch'io entrai nella comunità, e iniziai il mio percorso di fede, che poi è sfociato fino a quando non sono entrato in seminario. Devo dire la verità, vedere un po' questa realtà, in questo contesto di cui parlavamo prima, è un qualcosa di entusiasmante da una parte, perché pensare che c'erano delle persone che provengono da certe situazioni, e che attraverso questa esperienza hanno incontrato il Signore, che poi è l'esperienza un po' di tutte le realtà ecclesiali, che attraverso l'annuncio della bellezza in un contesto di degrado fa passare proprio l'importanza, la bellezza dell'adesione al messaggio del Signore. Diciamo che, da quello che raccontavi, la tua formazione cristiana è una formazione che è variegata, perché tu hai iniziato comunque a scuola, sei andato, hai frequentato una scuola cattolica, la scuola dei fratelli delle scuole cristiane, non sono conosciutissimi penso, però diciamo a Roma ci sono diverse loro scuole ancora oggi. Quindi hai iniziato, non è che facessi un cammino di fede con loro, però certamente in un ambiente che non è l'ambiente tra virgolette statale pubblico. Dopodiché sei passato a Quarticciolo, in questo ambiente particolare, hai cominciato a fare catechesi, quindi ti sei impegnato con i ragazzi, poi hai contemporaneamente frequentato la formazione neocatecumenale, quindi diciamo una formazione di un'altra tipologia, molto basata sull'annuncio, sull'ascolto della parola, quindi ti sei formato anche, che si è diventato capace di ascoltare la parola, perché poi uno dei problemi grossi, prima parlavi di vocazione, uno dei mezzi con cui Dio parla è la sua parola, cioè che va ascoltata, e noi oggi facciamo fatica, ho sbaglio? Sì, infatti oggi un giovane fa fatica ad ascoltare, proprio parlavamo prima del risintonizzarsi sulle frequenze del Signore, e io credo che oggi le giovani generazioni, un po' anche nel contatto che ho con loro, lavorando insieme con i giovani, è proprio questa fatica ad ascoltare, si fa fatica ad ascoltare i genitori, si fa fatica ad ascoltare gli adulti in genere, si fa fatica ad ascoltare la società, si fa fatica ad ascoltare la Chiesa. Ecco, allora questa sfida grande di insegnare, di educare i giovani, a risintonizzarsi, a riascoltare questa bella sinfonia, che poi è il progetto, il messaggio proposto dalla Chiesa, ma soprattutto dal Signore, è, credo, la sfida più urgente che abbiamo noi come educatori, come formatori delle giovani generazioni. Soprattutto in un contesto, ecco, io penso adesso che sto in questa parrocchia, anche da sacerdote, come molte volte un giovane si accontenta, rimane alla superficie, sceglie la mediocrità, proprio perché non ascolta, proprio perché vive nella relatività di ogni cosa, tutto va bene, tutto è buono, per quello che può interessare a me, che soddisfa a me. Invece imparare ad accogliere un messaggio, a riascoltare qualcosa che ti invita ad andare nella profondità, è qualcosa di più impegnativo. Molto spesso un giovane ha paura di impegnarsi, però la sfida importante è proprio quello di aiutare le giovani generazioni a ritrovare la forza e il coraggio di reimpegnarsi, di ridire un sì alla vita, ad un progetto, che è anche fatto di sacrificio, che è anche fatto di un per sempre, che è anche fatto di un progetto d'amore, perché molto spesso ascoltare significa anche amare. E amare significa andare in profondità. E mentre parlavi, mi venivano in mente delle elaborazioni del pensiero di Francesco D'Assisi, che fa Bonaventura, e dice che esistono due tipi di saperi. Uno è quello del sapere multa, cioè il sapere molte cose, e l'altro è il sapere multum, cioè il sapere molto, cioè entrare in profondità nelle cose. Oggi si fa fatica perché, magari, è la civiltà della velocità, sappiamo molte cose, andiamo su Google, Facebook, quello e quell'altro sappiamo tante. Acquisiamo notizie, ma l'acquisizione di notizie non vuol dire che io imparo a sapere le cose, perché le devo saper leggere, devo trovare la chiave di lettura, la password, per parlare in termini giovanili. E non è facile fare questo. Quando hai sentito, quando hai sentito che il Signore ti chiamava a fare qualcosa di più, cioè a donare la tua vita a Lui totalmente per gli altri? Cioè tu ti sei occupato di ragazzi, di bambini, in modo particolare avvicino a una persona che ti è molto cara, con cui hai condiviso anni di catechesi, quando hai sentito che il Signore ti chiedeva di più? C'è stato un momento della mia giovinezza dove diciamo c'è stato uno spartiacque. A un certo punto ti ritrovi a un bivio, questa è l'esperienza, credo, di tutti i giovani, ad un certo punto ritrovi che devi decidere. Capisci che è arrivato un momento in cui non si gioca più. Proprio quando sposò questo mio amico, era il primo amico della nostra commetiva, che si sposava. Ricordo quando insieme agli altri amici entrammo in chiesa, rimanemmo colpiti perché questa immagine è qualcosa di nuovo che avevi visto in tv, che forse avevi anche sognato. E quando mi ricordo, ormai sono un po' di anni, ci ritrovamo in questa scena di questo bel film, ma un film molto vero, lì mi posi una domanda seria, ce la ponemmo tutti, chi più e chi meno abbiamo risposto, chi prima o chi dopo, ma io ricordo e gli dissi siamo diventati grandi, non si gioca più. Tra l'altro era il giorno del mio compleanno. E da quel momento mi sono messo in ricerca e lì ho sperimentato anche l'importanza di avere delle figure significative, come penso anche ad alcuni padri in parrocchia, che mi hanno accompagnato, mi hanno aiutato, sostenuto, non mi hanno obbligato oppure imposto, meno male, abbiamo un altro, no, ma anche, soprattutto rispettato ed accompagnato. tant'è che io oggi, come accompagnatore vocazionale, perché mi è salutato questo ministero, vorrei far rivivere ai giovani ciò che ho vissuto io, con le competenze che ho oggi per ciò che mi sono preparato, però soprattutto rivivendo anch'io quella carità che ho ricevuto, come dice un po' nella lettera di San Giovanni, amiamo perché siamo stati amati per primi. Io questo amore del Signore l'ho gustato proprio attraverso questi intermediari, queste mediazioni, che non mi hanno imposto, non mi hanno obbligato, ma mi sono stati vicini e mi hanno sostenuto. E credo che questa è la più bella pedagogia che ho ricevuto e che anch'io vorrei vivere con i giovani. Penso che il discernimento, cioè capire che cosa il Signore vuole, che cosa vuoi fare da grande, come dicevi tu, lo diciamo in termini spiccioli, sia una cosa complicata per tutti, e quindi qual è la direzione che vuoi dare alla tua vita, quindi se vuoi una moglie, se vuoi la vita religiosa, se vuoi la vita sacerdotale, cioè sono tutte scelte che uno ha la possibilità di intraprendere, però poi alla fine si deve decidere, c'è un certo punto di dire o vado a destra o vado a sinistra, o la valo a spacca, insomma, quindi c'è sta questione, ma una volta che tu hai deciso di intraprendere quella strada, io so, mi ricordo vagamente, che tu avessi, diciamo anche là, delle possibilità di scelta, avevi delle possibilità di scelta, a un certo punto avevi imparato pure il giapponese, avendo iniziato a essere il giapponese, perché pensavi di entrare nei seminari catecumenali, a un certo punto c'è pure quella cosa, sei sempre astratto attratto dai giovani e quindi la possibilità di diventare salesiano, eccetera, variavi anche questo, poi hai scelto i padri deoniani, come mai? Aiutato dai padri, i quali non mi hanno mai detto entra da noi, diventa deoniano, ma mi hanno aiutato a saper leggere nella mia vita quelle tracce di Dio, tu parlavi prima di buonaventura, no? Saper cogliere le tracce di Dio nella propria storia e in fondo io avevo colto la bellezza del messaggio del Signore attraverso l'impegno con i padri deoniani, perché avevo vissuto l'oratorio, avevo vissuto la pastorale giovanile, avevo vissuto la catechesi, ma a mia volta come giovane ho ricevuto questo dai padri deoniani e questa cosa che mi ha interrogato ed era questa cosa che mi appassionava, è vero, avevo a un certo punto anche su invito di stessi padri vedere vedi l'esperienza in cui ti ritrovi meglio e feci anche l'esperienza col cammino, un anno feci un po' di discernimento, ma non era ciò che mi, della quale sono anche molto grato perché è stato importante, ma non era quello che cercavo, io vedevo che il progetto di Dio, la mia vocazione mi chiamava da un'altra parte e soprattutto aveva delle caratteristiche che come dicevi tu prima, come ti ha chiamato il Signore, certo non mi ha né telefonato né avevamo il walkie talkie né all'epoca non c'era neanche Facebook quindi non avevamo i mezzi di oggi ma attraverso la vita stessa saper stare con i padri vedere proprio questa passione questo impegno è ciò che cercavo ma soprattutto la vita in comunità mi piaceva questo modo di essere sacerdote condividendolo con altri quindi annunciare il Vangelo non da solo non come un qualcosa di mio ma come un qualcosa segnato dal nostro come un qualcosa segnato dall'insieme come un qualcosa trasmesso come era all'inizio dell'esperienza cristiana cioè da 12 apostoli insieme al Signore e credo che questa è anche la bellezza profetica della vita religiosa che io ho colto da giovane in ricerca all'epoca che colgo da oggi da sacerdote che ho colto negli anni della formazione e che spero sempre di poter vivere come sacerdote è la bellezza di essere in una vita di comunità e poi la bellezza anche del nostro carisma ho visto anche come mi è stato presentato con molta umiltà con molta semplicità ma un carisma sapeva andare al cuore della gente io sono cresciuto in una borgata vengo da una famiglia che vive in una borgata e quindi conosco cosa significa anche il degrado di cui parlavamo prima eppure io ho visto che il carisma deuniano come si esprimeva lì in quella realtà attraverso l'esperienza proprio del fondatore cioè la scelta di stare come comunità religiosa in mezzo ai poveri era qualcosa che mi diceva molto più di una semplice vita normale in una parrocchia normale perché mi sentivo chiamato a questo e poi un'altra cosa che mi appassionava era questo cuore di Cristo la spiritualità del cuore di Gesù perché non soltanto come magari possiamo conoscerla noi quindi non fermandoci all'aspetto devozionale al cuore così presentato ma all'esigenza di amore che chiede questa nostra società e alla possibilità che abbiamo noi al privilegio che abbiamo noi come deuniani di annunciare questo amore questo amore che è per tutti questo amore che nasce da un cuore e come attraverso la sfida di portare anche in noi quegli sentimenti del Signore ecco ho messo nel mio ricordino del sacerdozio una frase del nostro pensavo che avevi fatto già lo stemma pontificio ci sto pensando col motto ci sto pensando mi ricordo in questo ricordino del sacerdozio bisogna scegliere una frase del Vangelo o del fondatore insomma che più era più significativa per me beh tra le tante che mi sono trovato ce n'è stata una nella quale mi sono ritrovato io e ho ritrovato la mia esperienza dove il padre fondatore parlando agli educatori e ai formatori del collegio di San Giovanni diciamo la nostra prima opera ed è un'opera educativa accanto ai giovani diceva di far battere il nostro cuore la sfida che abbiamo noi Deuniani far battere il nostro cuore al ritmo del cuore di Gesù un po' richiama quel risintonizzarsi di cui abbiamo parlato prima allora io come giovane dai padri Deuniani ho ricevuto questa gioia di far di ascoltare la chiamata del Signore risintonizzandomi sulle sue frequenze e questo vedendo la loro opera oggi come sacerdote colgo la bellezza di rieducare i giovani riaccompagnarli risintonizzandosi ma soprattutto con una spiritualità che è il cuore di Cristo battere il mio cuore al ritmo del suo e questo significa vedere la vita approcciarsi alla vita approcciarsi alla storia con una visione diversa dicevamo prima dalle periferie bene noi possiamo andare a queste periferie con questo cuore e con questo cuore annunciare l'amore all'uomo di oggi che ne è sempre più bisognoso soprattutto soprattutto questa cosa è una cosa che deve essere fatta l'hai detto quasi sempre diciamo nei tuoi nei tuoi interventi l'hai fatto trapelare questa cosa bisogna farla con la testimonianza cioè in realtà tu hai ricevuto una chiamata attraverso la testimonianza di persone che hanno cercato di vivere si sono sforzate di vivere gente imperfetta come lo siamo noi ma persone che appunto con la loro vita con il loro esempio ti hanno trasmesso qualche cosa è importante che noi continuiamo questa opera e perché noi continuiamo questa opera dobbiamo alimentarci alla fonte alla sorgente dobbiamo essere contenti di questa cosa infatti una cosa che mi piace spero che i telespettatori la vedranno è che abbiamo trascorso mezz'ora è finita eri preoccupato all'inizio abbiamo trascorso mezz'ora dialogando scherzando ridendo con la gioia la gioia la gioia che su tanti volte è spenta anche di quelli che di quei ragazzi che pensano di conquistare il mondo sempre arrabbiati eccetera eccetera no perché ci manca qualcosa ci abbiamo tante cose ma ci manca qualche cosa sai pensavo all'esperienza anche di Papa Francesco che cos'è che coinvolge di questo uomo di questo uomo di Dio le giovani generazioni ed è proprio penso il suo messaggio di semplicità e di gioia tant'è che nell'Evangelium Gaudium lui parla proprio che l'annuncio del regno di Dio è innanzitutto portatore di gioia di gioia perché questo cambia il mondo questo porta quella bellezza di cui parlavamo anche in situazioni degradanti e degradate è l'annuncio del Vangelo della gioia e mi colpiva che lui diceva ai seminaristi ma anche ai sacerdoti quando incontra i sacerdoti dice sempre una cosa siate gioiosi siate contenti di essere preti perché i giovani questo vedono se noi siamo contenti allora noi risintonizziamo i giovani sulle frequenze del Signore ma perché siamo contenti dobbiamo riscoprire continuamente la sorgente della gioia il problema è quello il problema è quello quindi è chiaro tu sei all'inizio beata a te quindi sei gioioso sono in luna di miele sei ancora nel periodo di garanzia diciamo quindi è chiaro se all'inizio non c'è gioia cominciamo proprio male come uno che si sposa e già sta triste perché si è sposato mi ricordo un ragazzo che studiava con me all'inizio che prese i voti dopo qualche giorno cominciava a dire ma che sofferenza infatti ha fatto una brutta fine se ne è andato dopo poco dice se tu inizi e già dici che stai soffrendo vuol dire che insomma hai sbagliato cioè non la dovevi fare questa cosa quindi c'è la gioia anche dell'inizio però ci dobbiamo augurare di mantenercela questa gioia per noi e perché la possiamo poi trasmettere perché quello che abbiamo ricevuto lo possiamo dare questo forse è l'agurio che ci dobbiamo fare che ti devo fare nel tuo proseguo perché poi la fortuna che hai adesso ha finito la tua formazione prima vi studiato d'avvocato non so se fa la zecca a garbuglia anche oggi non l'ho mai fatto realmente adesso hai finito il tuo periodo formativo il tuo periodo scolastico quindi hai dato tutti i tuoi esami eccetera eccetera ma ritorni nella tua parrocchia di origine quindi a a continuare un lavoro che si è in un qualche modo interrotto che adesso riprendi in una nuova veste lo facevi con gioia riporti quella gioia amplificata sì è una sfida ma è una sfida bella da accettare ed è proprio questo tornare e tornare avendo incontrato un qualcosa di più grande perché sono partito affidandomi ad una promessa torno avendo ancora di fronte questa promessa ma avendo l'esperienza che è bello averla seguita aver accettato quella proposta risintonizzandomi col Signore di poterlo seguire ed è bello essere prete ed è bello anche donare la propria vita per gli altri questa è una cosa che devi tenere presente sempre e soprattutto dico io a tante persone con la convinzione che che ci deve far superare i momenti più difficili che se una cosa viene da Dio sicuramente va avanti perché tu ti ricorderai abbiamo parlato di cose felici cose belle ma ci sono anche cose brutte cose pesanti se una cosa viene da Dio va avanti e questa convinzione dobbiamo tenerla nel cuore e forse testimoniarla anche alle persone che il Signore ci mette davanti e ci chiede di accompagnare nel cammino di vita quindi l'augurio che ti faccio e ti saluto anche a nome di Teledeon grazie grazie a Teledeon per questa opportunità grazie di riaverti spero spero sono molto contento è una delle prime interviste spero di poter entrare in questa casa perché penso che sia una casa soprattutto di poter entrare in questa esperienza che arriva al cuore delle persone siamo la tv del cuore siamo la tv del cuore che entra nelle case delle persone che è il cuore della società che sono il cuore dovrebbero essere il cuore della società quindi teniamo presente che anche questa è una ricchezza attraverso la quale dobbiamo annunciare il Vangelo di Cristo grazie grazie a te